Presidente D'Angelo, un risultato storico raggiunto dalla Virtus Libera Forio, da neopromossa, centrate i play-off ma soprattutto centrate il terzo posto, te lo aspettavi? No, sinceramente siamo partiti senza obiettivi predefiniti, però ci siamo tornati al terzo posto inaspettatamente, ma voglio dire che nel campo ce lo siamo meritato tutto questo terzo posto, i ragazzi sono stati bravissimi, la società è stata eccellente come sempre, quindi un risultato acquisito giustamente. Che campionato è stato? Perché ci sono stati momenti di difficoltà, sappiamo del cambio di allenatore, del ricambio, insomma alti e bassi ma alla fine avete tenuto sempre il timone ben saldo in mano. Diciamo che siamo partiti benissimo, infatti le prime parti del campionato avevamo una media di 10 gol a partita, siamo partiti fortissimi anche perché fisicamente abbiamo iniziato subito la preparazione, è stato in uno stato di forma eccellente. Poi verso fine anno, tipo verso dicembre, già ne abbiamo avuto un po' un piccolo calo e qualche problemino che il mister se ne era andato, ci sono state delle variazioni e diciamo che è stato un periodo un po' particolare, però poi ci siamo ripresi alla grande dopo la vittoria di San Marzano, la scuola è ritornata in condizioni come all'inizio, quindi veramente è stato un bel campionato. Che cosa ti aspetti adesso da questi playoff? Che cosa vi aspettate? E se la Serie B può essere qualcosa in meno di un sogno? I playoff sono sempre un terno all'otto, nel senso che sicuramente sappiamo che noi abbiamo le potenzialità per andare avanti, ora il 24 abbiamo una partita con il Cus, ma queste sono gare secche, quindi la squadra che quel giorno sta meglio, la squadra che si prepara meglio mentalmente va avanti e noi ci auguriamo che dopo le eliminazioni che abbiamo avuto in Coppa, magari in passato ci siano servite e magari ora sulla partita secca abbiamo un po' di esperienza in più e possiamo fare bene. Comunque la società crede nei mezzi della squadra e siamo fiduciosi da. Quanto incide il fattore campo secondo te? Di solito il fattore campo incide, in questo caso poi incide ancora di più perché il Palacasare è una bolgia, si è visto sabato che il pubblico è stato veramente a livelli di un pubblico di serie A di futsal, quindi veramente è un'arma in più. Devo dire che per una squadra che viene a giocare al Palacasare non è facile perché veramente è una bolgia, il pubblico è caloroso e poi nel nostro campo, visto che è il fattore K, siamo forti, quindi dipende tutto da noi. Un'ultima domanda sulla squadra, sarebbe impossibile parlare di tutti, però sicuramente Daniele Melisi è giocatore di altra categoria, Ortega comunque ha dato un contributo importante da quando è arrivato, però io ho visto una crescita importante degli schitani, che sono gli stessi che sono partiti con voi dalla Serie D, e poi c'è Raffaele Cuomo che è addirittura capocannone in C1, cioè questo credo sia la soddisfazione più grande. Sì, sì, diciamo che questo gruppo, io che l'ho visto nascere dall'inizio, ha fatto un'evoluzione enorme, infatti da quando è venuto Daniele Melisi tutta la squadra è salita di livello, veramente, vi ricordo i giocatori che facevano la Serie D, ragazzi adora vederli, hanno fatto dei passi da gigante, veramente grazie al mister, grazie allo staffo tecnico, grazie a Daniele Melisi che ha dato i suoi insegnamenti, veramente, i ragazzi sono arrivati a un livello altissimo, di Melisi che c'è da dire, ha fatto la storia fuori io, e speriamo che ci regala questa Serie B, sicuramente, almeno speriamo di fare un bel play-off, questo è il discorso, la Serie B sarebbe solo un sogno, quindi andiamo con i piedi per terra, mentre di Raffaele Cuomo, mi ricordo all'inizio che il mister l'ha inserito in modo graduale per non bruciarlo, e poi oggi c'è la soddisfazione di vedere che il ragazzo ha fatto 51 gol in campionato, il capocannoniere regionale, penso è solo una soddisfazione per la società, veramente, anche lui deve ringraziare comunque i ragazzi della squadra che si sono messi a disposizione, che gli hanno permesso anche di fare questi gol, però Raffaele ha un sinistro magico, veramente se lo merita questo titolo di capocannoniere. Grazie a tutti.